ok dovrei essere pronto ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ci troviamo nuovamente sul mio canale stavolta però a trattare un argomento un po' diverso dal solito eh si c'è una cosa di cui io mi interesso che però non ho mai portato sul canale si tratta di hardware ragazzi non ho mai portato non ho mai fatto più che altro video di hardware in cui parlavo di componenti del computer e cose varie è capitato per caso ieri che mi è arrivato un altro hard disk lo faccio subito vedere questo qui HyperX Fury della Kingston e volevo farvelo vedere io avevo già un SSD della Kingston comprato ovviamente grazie a Youtube avevo un SSD che non era altro che il classico SSD Kingston però da 240 GB questo l'ho preso da 120 GB perché questo costa un pochino di più perché ragazzi perché soprattutto questo disco è molto 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 più veloce soprattutto ha la garanzia di 3 anni che danno poi questo non lo so se è relativamente utile 3 anni di garanzia è buono dei soliti dischi a me mi si rompono dopo un annetto quindi 3 anni di garanzia è da paura comunque credo molto in questo SSD io avevo quello vecchio che è da 2,40 penso lo terrò questo lo utilizzerò solo per Youtube e volevo farvelo vedere perché a me sembra che è veramente 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 promettente andiamo a dare un'occhiata a piede vicino non fate caso ai fili del microfono andiamo subito a spacchettare questo disco ovviamente vorrei cercare di spacchettarlo senza fare danni alla scatola perché in teoria c'è la garanzia da qualche parte che non voglio perdere come si apre e sto a fare da sotto? non ne ho una minima idea vedi come fare le cose non preparate come si apre un disco rigido? no tipo da qui dovete fare tutto bordo 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 no 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 sto spaccato tutto da qui ok forse l'ho aperto ok forse l'ho aperto ok ci sono si sta aprendo ragazzi dal lato si apre guardate vi faccio vedere c'è una specie di fessura c'è da entrambi i lati anche di qua guardate che basta infilarci le unghie e aprire perfetto allora ecco qui il nostro disco che lentamente viene fuori si sto facendo con cautela ragazzi non voglio fare danni a parte il fatto che ci tengo molto a queste cose e poi queste cose sono delicate quindi bisogna fare con calma ecco qui il nostro disco ragazzi ovviamente abbiamo il piccolo supporto la base per non far toccare il disco terra questi qui sono dei vi faccio vedere si alzano vedete questi si alzano vi faccio vedere più da vicino e sotto c'è l'adesivo questo si può attaccare sotto sotto al disco per non farlo toccare direttamente con il terreno ovviamente è una questione di sicurezza e per non sporcare sporcare il disco comunque lo dovete appoggiare poi quelli sono cavoli vostri ovviamente è un disco da interni l'attacco è stato ok la scatola sembra non c'è nient'altro ragazzi è semplicemente tutto qui solo il disco questo disco ragazzi ve lo faccio vedere bene ecco qui se lo metto dritto è ancora più figo ecco 120 giga HyperX Fury ha classico attacco Sata l'attacco Sata ragazzi è quelli che hanno tutti i nuovi dischi se voi avete un disco rigido di un pc che abbia meno di 8 anni l'attacco è questo quindi è compatibile con qualunque computer altre cose che posso dirvi su questo disco ragazzi a parte la velocità di scrittura è la capacità di fare molte cose insieme mi spiego il vantaggio dell'SSD qual è? torniamo su con la camera il vantaggio dell'SSD qual è? semplicemente ragazzi il poter fare più operazioni contemporanee mi spiego mentre un disco normale sta scrivendo ha bisogno di concentrarsi su quello che sta scrivendo perché c'è il rischio che i file vengano danneggiati un SSD invece può fare tutto quello che vuoi contemporaneo può aprire 10 giochi può aprire 27 programmi può renderizzare scaricare oppure notare tutto insieme tutto contemporaneo senza danneggiare minimamente i dati e senza perdere prestazioni del disco perché è una velocità incredibile fino a 500 MB di lettura e scrittura mentre quello vecchio che ho io arriva fino a 450 questa nuova generazione che arriva fino a 500 ovviamente ragazzi i prezzi sono quelli che sono anzi vi dirò pensavo fosse più costoso invece questo da 20 giga si aggira attorno ai 60 euro quello che comprai io il doppio da 240 l'ho pagato 120 esattamente il doppio no 110 mi sembra comunque il prezzo è ottimo essendo di generazione nuova e e dato che quelli vecchi non sono ancora carati di prezzo devo dire che 60 euro per questi sono veramente fantastici vabbè ragazzi spero che abbiate trovato te pare dai stavamo fatto tutto bene mi sono picciato ma che cavolo c'era una volta mi ero tanto impegnato per fare sto video non mi sono scritto niente è tutto improvvisato non pensavo ma mi è incredibile comunque spero che abbiate trovato interessante questo video e il disco è questo io vi saluto ci vediamo nel prossimo video anzi nei prossimi video che verranno fuori da qui tutti da qui verranno fuori e spero che vi avrete trovato interessante questo argomento se vi piacciono video di hardware ne potrei fare altri perché no e io vi ringrazio oh guarda che mi danno che carino raga c'è l'adesivo dell'hyper x no io questo l'attacco sul monitor epico ok vabbè ragazzi ciao a tutti e al prossimo video